Prima di ogni incontro della Guinness 6 Nazioni 2022, gli organizzatori e le federazioni continueranno a schierarsi contro il razzismo. In tutti gli stati, davanti alla televisione, il messaggio che vogliamo condividere è che il razzismo non è accettabile nel rugby, nello sport e nel mondo in cui viviamo. Grazie per il vostro supporto per farci che il rugby sia davvero un verbo. Grazie per il vostro supporto per il razzismo.